Ormai ci siamo, la data è certa, il 31 maggio si andrà a votare tanto in Regione Campania quanto a Cava dei Tirreni ed i candidati alla guida dell'amministrazione comunale cominciano ad aprire i propri comitati elettorali. Non ultimo quello di Renato Aliberti, espressione unitaria di Fratelli d'Italia, candidato alla poltrona di sindaco. La poltrona non mi piace, è una cosa che sto dicendo a tutti i politici che fanno la corsa per la poltrona. Io non faccio la corsa per la poltrona, faccio la corsa per dare un po' di movimento alla città di Cava, cercherò di dare supporto a tutte le attività produttive, al commercio che vediamo che in questa fase di crisi sta veramente soffrendo. Quindi è questo il mio impegno per la città. Vedo tra i vari slogan sviluppo e territorio, queste forse le due priorità per quanto riguarda Cava? Sicuramente sì, essendo imprenditore lo sviluppo per la città e tutto il territorio di Cava dei Tirreni. Lo dico sempre, continuo a dirlo, voglio che sia un'altra volta la piccola Svizzera come l'era una volta. Ci sono 11 candidati a ruolo di sindaco, state lavorando per i turlo o Renato Aliberti va avanti dritto per la sua strada? Io vado diritto per la mia strada, sono convinto di avere consensi, io più giro tra la gente, vedo che la gente si avvicina al mio programma, il programma di sviluppo è quello che voglio fare per i giovani, dare la possibilità loro di trovare più facilmente lavoro a Cava. Per Fratelli d'Italia due sono le priorità per Cava dei Tirreni, territorio e sviluppo. Dovrà vedersela però con altri 10 candidati, forse espressione di una forte crisi di valore, frutto anche, come spiega Edmondo Cirielli, della cattiva politica operata sul territorio cavese. Una crisi che viene sottolineata forse anche dal numero di candidati sindaco che ci sono? Sì, sicuramente questo è anche un po' il fallimento della classe politica del centrodestra, purtroppo è innegabile che Marco Galdi che parte dal centrodestra ha fatto il giro un pochino delle sette chiese di vari partiti e questo ha creato un grande sbandamento, stessa cosa vale per Galdi che ultimamente ha anche sostenuto il candidato presidente del PD, più volte ha fatto accordi col sindaco di Salerno sugli enti sovracomunali, ma al di là delle scelte singole per carità siamo in piena libertà, ognuno fa quello che gli pare. Però questo ha creato un grande sbandamento, una confusione nella classe politica che si è dimostrata inadeguata rispetto a uno dei principi basilari, prima ancora che della politica della vita, che è quello della coerenza. E questo poi ha provocato chiaramente una frantumazione, la presenza di tanti candidati, io sono convinto che chi arriverà al ballottaggio, i due che arriveranno al ballottaggio saranno sotto il 30%, questo anche a far capire che anche la città vive uno sbandamento di una politica locale, comunale, e purtroppo non adeguata invece alla storia, anche l'importanza di Cava, una città di oltre 50.000 abitanti che è ancora una delle locomotive della nostra provincia.